Ciao a tutti e bentornati su Fisioterapia Osteopatia Alfieri. Oggi parliamo velocemente di sclerosi multipla, vediamo sostanzialmente che cos'è. È una malattia neurodegenerativa caratterizzata da una demielinizzazione, ovvero una perdita di quella che è la guaina mielinica che ricopre i nostri nervi. È come se i nostri nervi abbiano, appunto come i cavi elettrici, una guaina intorno di gomma per isolare, per permettere quindi al segnale di non avere interruzioni, di non avere dispersioni e di andare quindi più velocemente. Stessa cosa con i nervi, i nervi, la guaina permette alla conduzione nervosa di saltare da un nodo all'altro. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma sostanzialmente permette all'impulso nervoso di essere dieci volte più veloce rispetto a un impulso nervoso non mielinizzato. E questo è quello che avviene a livello di sclerosi multipla. Il nervo, il sistema nervoso centrale, in realtà perde la mielinizzazione e si formano quindi delle placche in queste zone, che appunto sono riconoscibili radiologicamente. e sostanzialmente in queste zone l'impulso nervoso diventa più lento. Questo può avvenire sia a livello proprio di encefalo, quindi a livello del cervello, che a livello del midollo spinale, che è sempre considerato parte del sistema nervoso centrale. E quelle zone demielinizzate saranno zone in cui l'impulso andrà più lento e quindi faremo difficoltà a svolgere quella funzione che prevede quella zona di competenza, quell'area del nostro cervello. Per cui se quell'area del nostro cervello è quella che innerva la gamba di destra magari, allora la mia gamba di destra comincerà ad avere dei problemi, che possono essere magari del formicolio, che ogni tanto mi cede, perdo la forza, perdo la sensibilità e via dicendo. Ma possono essere colpite altre aree del cervello, deputate anche non solo agli aspetti motori, ma anche agli aspetti cognitivi, come la memoria, come gli aspetti anche di carattere, di comportamento, gli aspetti psicologici, le paure, eccetera. Per cui è una malattia veramente complessa che può prendere qualsiasi aspetto della nostra vita, del nostro corpo, in quanto si sa che il nostro cervello è fondamentalmente la stazione in cui tutto viene programmato e dove noi prendiamo le nostre decisioni di muovere, di pensare e di ricordare. Per cui è una malattia demilinizzante e questo sicuramente porta a grandi, gravi conseguenze. È una malattia che comunque ha un decorso che può essere a ricadute, per cui possiamo avere per diversi anni una situazione molto stabile e per gli anni successivi e poi a un certo punto avere come una ricaduta improvvisa, si formano nuove placche e immediatamente siamo peggiorati in termini di capacità e di funzioni. A giorno oggi ci sono dei farmaci che funzionano molto, molto meglio rispetto a qualche anno fa e si può avere un'aspettativa di vita paragonabile a quella di una persona che non soffre di sclerosi multipla. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa approfondire particolarmente. Ho fatto un video molto veloce, molto improvvisato su questa patologia. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa approfondirla. Potrei fare un video a riguardo un po' più lungo, un po' più dettagliato. Noi ci vediamo nel prossimo video.